Innocente Eccolo qua, sembra un po' a Lugliano Quarto classificato Baroni Giovanni Ciao, ciao alla prossima Baroni Giovanni Della Industria Rome Quarto classificato dagli M4 Team Leonessa Facciamo un po' di pubblicità Magari ti lo so qua scarsa qua Terzo classificato Pignotti Mauro E primo classificato Lora Vincola Della Milenio Ok M3 Secondo classificato Novali Roberto E primo classificato Buongiorno Alberto Bravo Buongiorno Alessio 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 Stai sempre a voi Stai sempre a voi Ok Secondo classificato Fracassi Stefano Due fracassi Primo classificato dalla categoria M2 Rigoni Andrea Allora categoria M1 E se dopo gli aeroporti via te? Quarto classificato, questi sono i svantaggi per chi non c'è che poi lo prende l'amico lì Terzo classificato Rossi Alberto Secondo classificato Mura Alessandro Settivo classificato Sandrini Giovanni Sesto classificato Braghini Michele Quarto classificato Paranini Niccolò Terzo classificato Vedovello Mattia Secondo classificato Gilandro Riccardo Il primo classificato Gaiati Domenico Eccolo quarto premio Della Leonessa Il Leonessa Ok Poi Poi Poi